Tutti con il naso all'insù questa mattina all'Aquila per seguire lo spettacolo e anche le tante emozioni che hanno regalato le frecce tricolori. Le evoluzioni, le state vedendo in queste immagini della pattuglia acrobatica nazionale, sono iniziate intorno alle 11.30. L'occasione, il centenario della Fondazione dell'Aeronautica Militare, il momento clou dell'esibizione, il passaggio sulla Basilica di San Bernardino e sull'omonima scalinata dove si stanno svolgendo in questi giorni gli eventi di musica e spettacolo. Altro momento importante, il volo sull'aeroporto di Preturo, un modo per valorizzare lo scalo aquilano. Le scie verdi, bianche e rosse sono state salutate da tanti bambini delle scuole estive e da cittadini e turisti. Le evoluzioni sono state precedute da numerosi eventi di divulgazione storica per conoscere da vicino l'attività delle frecce tricolori e anche l'attività svolta in cent'anni dall'Aeronautica Militare Italiana.